Sono 38 i comuni della provincia di Pesaro Urbino che si sono presentati al voto per le elezioni amministrative e inoltre la metà dei casi si è scelta la continuità col sindaco uscente. E così innanzitutto per Vallefoglia, terza città più popolosa della provincia, che conferma Palmiro Ucchielli, sindaco, al suo terzo mandato. Per Ucchielli un netto 58,9% di preferenze, davanti al 28% di Torcoletti, al 7,4% di Carla Nicolini e al 4,95% di Scozza Fava. Percentuali bulgare invece per la riconferma di Ciccolini ed Urbagna, ancora sindaco col 74% di preferenze. Si sceglie la continuità anche a Cagli dove viene confermato Alberto Alessandri, a Cantiano dove resta sindaco Alessandro Piccini, a Carpegna con Mirko Ruggeri, a San Lorenzo in campo con Davide Dellonti, a Sasso Corvara Auditore con Daniele Grossi, ad Apecchio con Vittorio Alberto Nicolucci, a Pietrarubbia con Maria Assunta Paolini. I ribaltoni invece arrivano da Pergola dove Diego Sabatucci spodesta a Simona Guidarelli con un netto 67% e a Montelabate dove vince Roberto Rossi col 45% e con la sindaco uscente Cinziaferri che arriva terza anche dietro al candidato Maurizio Golini. A Mercatello sul Metauro Alfiero Marchetti ha la meglio sulla conferma di Fernanda Sacchi, a Pian di Meleto Nicolo Pierini la spunta su Veronica Magnani. Si cambia anche a San Costanzo con la vittoria di Domenico Carbone, mentre a Gabicce Mare incredibile successo per Marila Girolomoni che batte Michele Bencivenga per appena 13 voti. Ad Acqualagna Pierluigi Grassi con il 59,5% batte nettamente Laura Biagiotti. A Petriano si impone Giovanni Angelini, a Macerata Feltri a Massimiliano Gorgolini, a Monteporzio Marco Moscatelli. Nessun problema per i comuni che correvano in solitaria, tutti raggiungono il quorum d'affluenza scongiurando il commissariamento. Continua dunque l'avventura amministrativa di Petruccia a Monbaroccio, Enrico Rossi a Cartoceto, Urbini a Piobbico, Donatella a Paganelli a Monte Calvo in Foglia, Marchetti a Sant'Ippolito, Tagnani a Frontone, Dini a Lunano, Romina Pierantoni a Borgo Pace, Caverni a Serra Sant'Abbondio, Giorgini a Monte Cerignone e Gliarossi a Monte Grimano Terme. Quorum raggiunto anche per le novità di Patrizio Federici a Tavuglia, Marotesi a Monte Felcino, Talozzi a Peglio, Massia Frotterosa e Federica Battazzi a Belforte a Lisauro.